Il mondo intero piange la scomparsa di Joseph Ratzinger, il papa più longevo della storia, deceduto questa mattina in Vaticano. Benedetto XVI nacque il 16 aprile 1927, entrò in seminario quando era ancora giovanissimo e diventò sacerdote nel 1951. La brillante carriera negli studi religiosi lo portò ad essere considerato un teologo ed intellettuale di grande fama. Il 19 aprile 2005 venne eletto papa e nonostante il suo operato sia stato giudicato conservatore, Benedetto XVI fu uno dei primi a riconoscere e tentare di contrastare il problema della pedofilia nella Chiesa Cattolica. Nel 2013 Ratzinger comunicò le sue intenzioni di rinunciare alla carica, una decisione le cui motivazioni non sono ancora state chiarite del tutto. Tra i diversi viaggi che hanno contrassegnato il suo pontificato ricordiamo quello a Lorenzago di Cadore nel 2007. L'area di montagna, aveva dichiarato, mi farà bene e potrò dedicarmi più liberamente alla riflessione e alla preghiera. La montagna evoca l'ascesa dello spirito verso l'alto, l'elevazione verso la misura alta della nostra umanità, che purtroppo la vita quotidiana tende ad abbassare. Tutto il cadore lo accolse con le bandiere bianche e gialle del Vaticano e una gigantografia di Papa Ratzinger accanto a Papa Voitila, che in precedenza aveva soggiornato a Lorenzago già diverse volte. Durante il viaggio nella Berlina Nera in direzione del castello di Mirabello, scelto come sua residenza, Benedetto XVI scese per salutare il centinaio di bambini che lo aspettavano a bordo strada. Tra le poche uscite che il Papa si concesse, vi fu anche l'Angelus nella piazza del paese, dove incontrò i Cadorini e i Bellunesi.